per me in questa mostra ci sono due principali segreti il primo molti quadri non sono neanche arrivati all'allestimento della mostra e allora sono stati messi dei poster al posto di essi però riprendono quella che è l'opera secondo segreto sono gli animali in ogni quadro ci sono sempre delle forme di animali anche piccoli grandi che rappresentano diversi significati per essere attenti